Ma per chi è a Salerno purtroppo in regione, adesso perché è stato trasferito il sistema Salerno anche in regione, vige già dall'avvio del deluchismo una sorta di autonomia differenziata nel settore urbanistico, ci sono regole e norme che non sono quelle che esistono per tutti a livello nazionale e devo dire c'è anche un certo strasbismo e miopia da parte delle istituzioni che dovrebbero essere demandate al controllo. Qui si sa bene, si realizzano edifici sul mare megagalattici senza preventiva autorizzazione, col silenzio assenso della sovrintendenza, si spostano alve e fiumi senza autorizzazione e si vendono anche delle aree di cui non si ha la proprietà, è come Totò che sostanzialmente vende la Fontana di Trevi. Che cosa accade per Piazza Cavour? Perché Piazza Cavour è bloccata da tanti anni e il cantiere è aperto nel cuore della città? Perché il Comune di Salerno ha acquisito nel 2010 da RFI il diritto di superficie trentennale e che poi ha ceduto all'azienda che sta costruendo come diritto di superficie per 99 anni per la realizzazione non di banchetti o di strutture movibili ma di strutture movibili sostanzialmente. Quindi è evidente che chi ha acquistato oggi non può realizzare, non può continuare ad eseguire i lavori. Come del resto è menzionato in alcuni documenti che sono stati redatti dalle parti, quindi da ditta e da Comune e come è evidenziato in una nota che sarebbe stata prodotta da RFI al Comune di Salerno. Questa vicenda è una vicenda annosa e lunga, quella della trattativa per l'acquisizione della proprietà invece dell'area da parte di RFI perché c'è sotto ovviamente una serie di controvenze, di condensiosi, RFI venderebbe milioni di Euro dal Comune di Salerno oltretutto importi mai contabilizzati nel bilancio del Comune per fatture vecchie di cui il Comune finge di non sapere nulla ma in realtà queste fatture non sarebbero state mai contestate, sostiene RFI non ci sarebbe neanche prescrizione perché sarebbero stati sollecitati i pagamenti e nel frattempo si va avanti in attesa che si definisce una trattativa, una transazione che ci davano invece in via di definizione già da 7-8 anni. Allora noi vogliamo capire se si può continuare a procedere così, se noi possiamo avere un cantiere eterno al centro della città e se qualcuno che è demandato al controllo verifica o meno la legittimità di atti perché a noi ci sembra impossibile che sulla base di un diritto di superficie trentennale si possa consentire e avviare la realizzazione di un progetto che prevede la costruzione di opere amovibili per 99 anni, quindi per un periodo nettamente superiore. Del resto sono passati già 10 anni oltretutto dalla convenzione di acquisizione delle aree di cui parliamo.